Nabode, noto anche come Nabonide o Nabueneaid, è stato l'ultimo re della dinastia caldea di Babilonia, regnando dal 556 al 539 anno corrente. La sua figura storica è avvolta da mistero e controversie, ma è indubbiamente uno dei personaggi più affascinanti dell'antica Mesopotamia. Nabonide salì al trono dopo aver deposto il suo predecessore Labashi Marduk, e durante il suo regno si distinse per le sue politiche innovative e per il suo interesse per la storia e la cultura babilonese. Una delle sue azioni più controverse fu quella di trasferire la capitale dell'impero babilonese da Babilonia a Teima, una mossa che suscitò molte critiche e che lo rese impopolare tra i suoi sudditi. Tuttavia, Nabonide era anche un sovrano illuminato e un mecenate delle arti e della cultura. Durante il suo regno, promosse scavi archeologici e restaurò antichi monumenti, dimostrando un profondo attaccamento alla storia e alla tradizione babilonese. Inoltre, fu un devoto seguace del dio della saggezza Nabu, a cui dedicò numerosi templi e opere architettoniche. La sua passione per la storia e la religione lo portò anche a intraprendere una sorta di pellegrinaggio nel deserto arabico, dove si dedicò a lunghe meditazioni e ad atti di devozione religiosa. Questo comportamento singolare contribuì a consolidare la sua fama di sovrano eccentrico e fu motivo di scandalo tra i sacerdoti e i nobili babilonesi. Tuttavia, il regno di Nabonide fu segnato da conflitti interni ed esterni. Le sue politiche religiose e il trasferimento della capitale indebolirono la sua posizione tra le élite babilonesi, mentre i suoi tentativi di riforma amministrativa non furono sufficienti a contrastare le minacce esterne. Nel 539 anno corrente, l'esercito persiano di Ciro il grande invase Babilonia, e Nabonide fu costretto a arrendersi dopo un breve assedio. La caduta di Babilonia segnò la fine dell'impero babilonesse e il tramonto della dinastia caldea. Nabonide fu deposto e esiliato in Carmania, dove visse il resto dei suoi giorni in relativa oscurità. La sua figura è stata oggetto di numerose interpretazioni e controversie da parte degli storici moderni, che hanno dibattuto sulle sue motivazioni, le sue azioni e il suo impatto sulla storia antica. Nonostante le sue scelte discutibili e il suo destino infelice, Nabonide rimane un personaggio affascinante e enigmatico, la cui eredità continua a suscitare interesse e curiosità tra gli studiosi di storia antica. La sua storia ci offre uno spaccato affascinante dell'antica Mesopotamia e delle complesse dinamiche politiche, religiose e culturali che caratterizzavano quell'epoca lontana.